E non piace né Roma né Firenze Normale Bolzano non è tipo super futuristica? Ma hai mai parlato con una persona di Bolzano? Ci hanno tutti a merda nel cervello Vivix Super futuristica dove? Ci hanno tutti a merda nel cervello a Bolzano Minions ha sponso Tranne la mamma di Valentina Come faccio a settare la chat in OBS con 6 tv come plugin? A me me lo dici simbolo L'ho settata E' sparita Non funziona più Non lo so Se intendi invece nella tua chat Di andare su impostazioni Impostazioni non moderatori Aspetto chat VT tv o frankfasis Da lì la metti Ionpenat con 13 mesi di resab Grazie per il supporto e il benvenuto Grazie Napoli Ci proviamo Grazie mille bro 13 mesi di benvenuto i cani cani Poi dovrò un piccolino con sta reina Boom Bellato eh Vai a zeri Non mi vuoi te a mezzo si es Vero? Vai a zeri Porta la A in realtà è abbastanza inutile Tanto la grabba E poi che faccio? Mi metto un dito un culo Oh no Flash exhaust Lo dovevo essere spiegato una di queste due Invece ho usato entrambe Quindi l'altro lato E sta top O di che c'è lo jungle Sicuramente Lo jungle è lì Metti ma ho bloccato i CS Se no gli avrei fatto fellar sto minion Niente Non avevo bloccato i CS Se no erano contenti Lì sta verso bot side L'importante è fargli perdere i CS ragazzi L'obiettivo è quello Fargli perdere i CS Lì Oh Saved Il combo shard è qua Così Riusciamo a fargli perdere più CS con il suo recall Non riusciamo Purtroppo il cannone ci impedisce di pushare Questa wave Purtroppo Il destino Non ha voluto farcela pushare Non possiamo fare però sapete cos'è? Regalare e basta Perché in c'è senso che non è Ok Ora Dito in culo top Sì siamo 0-2 nella promo ragazzi Per stare lì A Romeo andrea Ma che parte stai scusami Maxiamo la Q contro 0 Fino almeno a livello 3 della Q E 5 nostro Per avere più danni E poi maxiremo lei In realtà contro 0 Potremmo maxare solo Q Tanto non c'è senso Ok Ok Stai solo il tipo di vantaggio E' Gianna Cosa che è stato fatto Questa dalle vegari E' Molto mid Se reggiamo al 1v1 contro Viktor Figurate Asiasuo Se me lo prendi seriamente uno così Vediamo sta pink Andrò a guardare anche con una pink qua Così diamo più visione al team E poi regalerò Come scappa faremo sicuramente Infatto le tab sono buone Ma contro quel team dovrebbe dare Mercury Porca troia Sicuramente non vogliamo gruppare Vogliamo spritare tutto il game Il problema è che Viktor al TP Verrà lui contro di noi Ma certo Come da gestisci? Non riesco ad andare di scarpetto E' più muovo in speed Tipo perché tanto Sono inutile non usarlo Mojoon o Barabba? Eh Barabba purtroppo Quest'anno sono seriamente sfortunati Tutta sfortuna signor Barabba Che dobbiamo fa' Ma che siamo lì adesso? Ok Ci proviamo Castoro Ma che mid sta intando E bot Già ne pure ha fatto una cazzatina E noi staremo purtroppo Non possiamo abusarla E qua la barabba C'ho l'exhaust 0 Quindi non posso fare R-Flash Sono fuori range Il regalo va benissimo Che top Tutto Ok O Qu' Breathe Tanto Seule Somi Non Non Tutto Tut So Let maleva del tentacolo non posso fare le tapie purtroppo si ho gridato, ho gridato, ho gridato e non ce l'ho da gridare, è stata la parola di levarmi il tentacolo non posso fare le tapie perchè io sto game ho già credito che ora andai in teamfight sono sicuro che victor mi arriverà a counterare il mio spree push ok ok io lo scrivo a cosa perchè se vuole giocarsela così io cambio build, gioco le tabi andiamo scelicampione oggi è disbandato mate, oggi è disbandato lo scelicampione si no non l'opside, ho l'ultimo 310 non è che solista non è che solista non ho l'eraldo non ho l'eraldo non 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 via lì Ragazzi è scappata Non mi ha risposto Kain Potrei fare sia Black Leaver che Sterak Come vediamo Cosa preferite voi? Sterak o Black Leaver? Se facciamo Black Leaver è still ok Se facciamo Sterak facciamo The Dance terzo Se facciamo Black Leaver terzo Possiamo non fare The Dance e fare altro Noi facciamo Sterak e The Dance Into Spirit Black Leaver Daven strong con il tiro uno terzo come si dire sape Bella 0 Oh Eralda è una cazzata top Era molto meglio metterlo mid La prendo da solo la torre L'Ulbreaker in realtà si dovrebbe dare l'Ulbreaker No stai racconto Mi è completamente scontato che si stesse l'Ulbreaker No dovrei fare l'Ulbreaker decisamente Facciamo double l'Ulbreaker Grazie per il supporto signor Draven Tier 1 terzo mesero Benvenuto nei cani di cane Sono Welcome Back Per il CD su Illoy più che altro Perché work bene su Illoy C'è poco mana Victor Dica Lassatevi nel tube E benvenuto nei cani di cane Cazzo fottono un pendolo Tier 1 nuovo becci sul canale Signor Dave Signor Draven Non Daven Draven Grazie Danio Non ho deciso Ribbenvenuto nei cani di cane Signor Draven Tier 1 terzo messe La signora Lizzi Con l'undicesimo mese Con il prime Undici mesi Altro mese Signora Lizzi Per il nuovo becci sul canale E l'anno insieme E ribbenvenuta Nel tani di lupi Come va tutto bene? Alizzi Io qua C'ho il tp Se il mio team vuole Faitare No words Va bene Sì Draven strong Appunto Scrivete Telegram Ti arrivo un messaggio in privato Con il link del gruppo Telegram Per le cani di cani Quindi in generale Per la stream Se no Se vuoi invece un canale Per il gruppo Di poker E Investimenti Puoi essere un tipo di finanza Proverso un bottio Tutto bene Grazie di sì Eoh Abbed up Eoh Rip it up Continuiamo a pushare Io credo che già adesso Ci verrà Victor contro Queste neanche voi Che possiamo solo pushare Quindi Con il fatto che il calone Tanca tanto Possiamo grupparla bene Però servirebbe Che andare a vedere Che non sta dal mio side Che non dovrebbe sta qua Poi lo sono 4 quindi Non si sa per qual motivo Sempre il solito problema Nessuno copre il mio side Porca Troviamo Victorio a bot Io qua Due manate Gli do Grazie Frank Del follo Due manate Gliela diamo Una Due Come andiamo back Aiaiaiaia Vedete se qua c'è stato Kane Era free dive Victor Free dive Però purtroppo Senza Kane Non può essere così Se grab uno qua Fa la fine Dei gigi peppe Lei su di me Invece che su Niente Non vengo coverato Dal mio team C'è poco da fare O sapevo andare a finire così Io li conosco Troppo bene Troppo bene Li conosco Sono morti tutti Io victory splitter Non posso reggerlo Il fatto è che io queste situazioni Le predicto Facciamo del dance Potrei far spiriti in realtà Le predicto Prima che avvengono E so che sarà così E questo è il motivo Per il quale Non volevo andare a spray push Coddinci Che la gente Non sa giocare Io poi Quando morì Da Victor Ho tiltato Perché di quelle cose Nessuno fa un cazzo L'ultimo Mi sta fallerati Quindi qua giochiamo Safe E' Grazie a tutti Sto vitto a sta cosa non può farla Ando abbastanza logico che non possa farla Perché la fa comunque io non ne ho idea sinceramente Continuo a non capire perché non giocano su un esplipus Posso usci una fotocopia a sti game La gente non sa giocare De magro Sì Guys We can ff Che cos'è easiest? Non so Giuda Ah niente raga niente Iniziamo a fancazzo Sto gioco di merda Pieno di pezzi di merda Rotti in culo 0-3-0 Io queste cose le ho chiamate prima che succedessero E quella è la cosa E quella è la cosa che mi dà fastidio Perché Non è possibile che io vedo le cose 20 minuti prima E queste non le vedo neanche quando stanno a venire Porco dinci Come cazzo è possibile? Ok Game vieni qua Game vieni qua Game vieni qua Game vieni qua Ma perché che incontri una gruppa? Io non capisco sta cosa Niente Va vai Sì sì Siamo in tempissimo per farlo Ma vai Già finito Stati uniti Stati uniti Mi raccomando Uniti Vai vai Abbiamo preso noi Almeno quello Almeno quello Io si è lodato Shit cazzo di Dio Dipende che jungler sei Com'è il tuo team Se sono un jungler da engage Puoi fare due cose O gruppa E ingaggia O ingaggia quello che viene a cover a bot Se quei Zeri viene a cover a bot da sola È facilmente killabile Zeri bot da sola Game viene Morta 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 Non si sa perché Non si riesce a fare Una cazzo Di cosa normale Questa cosa la gente la fa in platino Capito Il drago qua Non ha importanza È un terzo drago per loro Che è un cloud In realtà Se per me non dai L'ho visto che Già siamo uno Più veloci di noi E non si sa come Pure con il cloud Stiamo freschi Tori mid è assolutamente da prendere Eh brutto Oiasu vero Voglio da solo due hit Tanto loro Stanno regalata Quindi non riesco a tagliere più Però è buono Perché dopo magari La prendo tutta Via via Lo sanno che Ci potrei stare io Lì dentro Coveratevi a me Coveratevi a me Ma cazzo ho fatto Ma cazzo ho fatto Victor mi ha shottato Sì il mio team Non ha neanche chiedato Perché loro stanno Fattuti da me Il mio team Non stava chiedando lì Infatti non so come sono morti Com'è possibile che sono morti? Forse c'era vi Soprattutto Ovviamente fare Dead Dance è buono Dopo la Dead Dance Potrei andare di Force of Nature Forse 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 Non ha senso Stato Troppo Medo resta Bot Provo a gruppare Vediamo che succede Andiamo di qua Gianna Che vediamo Se c'è qualcosa qua Non sono un flank champion Non m'ho flashato Non c'è credo Non m'ha flashato Non m'ho flashato Vabbè comunque era una bad action Da parte di Yasun Devo fare sta cosa Devo aspettare che Ken salisse E' pazzesco E' pazzesco Vi giuro Vi giuro io Non sono unbelievable La promo Veramente è andata De merda 3 game su 3 In team In team In team Gli handicappati Veramente Boh Vedo no Come bannabili Ragazzi Ragazzi Se una persona Va 0-6-0 E pensi Hai giocato bene E flamma Ha chiari disturbi mentali Non so io che lo dico È la definizione Eh Non capisco Oh Meno 52 Manco troppo Guarda qua 13.964 13.964 Comunque è pazzesco Pure che la gente Non sa più gioca Pianna 0-5-3 Parla Pianna 0-5-3 Per l'ultima Per l'ultima Gli handicappare Pianna 0-5-3 Pianna 0-5-3 Pianna 0-5-3 Pianna 0-5-3